Certo, sicuramente. Diciamo che è la cosa essenziale per la partenza, perché il gruppo dà sempre la forza. Da lì arrivano poi le vittorie, anche delle sconfitte, però l'importante è essere sempre uniti, sicuramente. Come ti sembra questo gruppo? Allora, abbiamo fatto un allenamento. Io credo ci sia, a parte dal punto di vista tecnico, del potenziale, ma anche, soprattutto dal punto di vista dell'unione, proprio del gruppo, direi che secondo me possiamo fare molto bene quest'anno, perché siamo tutti ragazzi, soprattutto, che hanno voglia. Questa è una cosa molto importante, estremamente importante. In che ruolo hai giocchiato? Il mio ruolo è guardia. Guardia. Due, tre. Poi, a disposizione del coach, insomma. Si comincia un'altra avventura, con altri compagni, che si va anche verso quella che può essere una strada vittoriosa. Sì, questo è il mio quinto anno, qui in Italia, e ora sono con Scuola Basca e Terezzo, quindi vogliamo fare tante grande cose. In che ruolo giochi? Primario ruolo B4, ma posso giocare anche da 3 alle 5, diciamo. Come ti sembra essere in mezzo a questo nuovo gruppo? Bene, bene. Mi sono trovato bene con tutti. Questa è una grande squadra e vediamo di fare tante grande cose.